E pensiamo anche che molti profughi sono stati accolti attraverso i corridoi umanitari promossi dalla CEI, dalla comunità di Sant'Egidio, dai Valdesi, un impegno che non significa sottrarre forze intellettuali e professionali per la ricostruzione della Siria. Lo spiega il direttore della Caritas, Francesco Soddu. I canali umanitari non sono la via privilegiata per far fuggire la gente, ma è la via privilegiata per far transitare in tutta sicurezza quelle fasce di popolazione che vivono la marginalità e vivono la sofferenza, mi riferisco ai malati, ai gravamente handicapati, tutte quelle persone che non troverebbero altra soluzione se non nei canali umanitari.